C'è un amico di vita invece che arrivò un po' da lontano, un po' a Ischia, anche a Milano, adesso sta a Ischia, ma ha sempre dato un apporto importante, quello che è stato la Adalberto Liguoro, tanto il sindaco di Ischia Chiesi si resta dalla foto Adalberto. Buonasera a tutti, io non sono Ischitano d'Oscar, però per la Ischia ero 14-15 anni, la tecna del 67, quindi una organizzazione ultra sensibilizzata, poi dopo la lunga vita di Ischia, anche a Milano eccetera, adesso sono proprio residente, quindi sono vostro compatriota, comprura, come siete dire, abbiamo fatto mille cose insieme, anche a Milano, abbiamo fatto anche per l'istrata, delle recite, delle cose bellissime. Uno tra l'altro ha fatto una generazione nel mio libro, che ho fatto, stiamo per grazia, prima del terremoto, che si chiama Nuova cronica all'Oscar, perché a Nuova nel 43 c'è un gravissimo fatto di, diciamo, ritorzione dei tedeschi contro i italiani, per cui per un ufficiale tedesco che fu ucciscono la scala d'Oscar, furono uccidati dieci consigliati italiani, tra cui il mio padre, e quindi questa cosa poi è stata molte cose, molte cose, molte cose, eccetera. Recentemente a Nuova il sindaco ha inaugurato una targa che è stata fatta per un ragazzo di 16 anni, di cui non si sapeva niente, si è saputo, solamente dopo 78 anni, si è saputo che questo ragazzo di 16 anni era stato ucciso, in quelle circostanze, allora, eccetera. Allora questa cosa mi ha particolarmente colpito. E comunque c'è l'ho scritto una poesia, adesso la faccio. Vi faccio vedere due minuti, però ci chiedo perché questo è stato un ragazzo di 16 anni. Questo è un ragazzo di 16 anni. Vai, vai, vai. Allora, il ragazzo si chiama Giuseppe De Luca, ucciso a Nuova il 10 settembre 1943, dall'ossurità delle armi e dall'oscurità di menti fanaglie. Nel mondo dei morti c'è la nostra età in cui ritirassi, ma lui avrà la fare d'altro. Nel mondo dei morti eravamo felici senza bisogno di esserlo. Nel mondo dei morti ci conosciamo dalla morte dei tempi. Nel mondo dei morti non abbiamo anni, ma attimi. Nel mondo dei morti sappiamo di non essere morti, ma non lo ricordiamo quando viviamo. Nel mondo dei morti c'è un mondo segreto di antiche foreste, dove si incontrano le anime, ma in un altro mondo, e nessuno lo sa. Nel mondo dei morti, te lo avevo detto, sospeso tra un cane, un treno, un campo di fiori pieno di sole, incredono per le braccia aperte, pronte a raccogliersi, verso le quali correrai. Mi fece a questo giovane ragazzo. E tra la carezza di un soffio di lento, insieme a quella di un tene orale calente, di minuti a graffoli appena sbocciate, ti troverai fuori il busto soffio di tale dei primi raggiri, e quello mai più dimenticherai. Mentre la tua vita non ha ancora cominciato a giocare sul destino, il destino già gioca con la tua. Grazie.